Grazie 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 Come stai? Tutto bene Quanto ci vediamo? Vabbè Non ci sta la confusione degli anni passati E' vero? E' una cosa più Non ci sta la confusione Non ci sta la confusione Forse perchè non ce l'ha fatto Perchè non ci sta la confusione E quello è male Cioè ci sarà un prostituto Non ci sta la confusione Non ci sta la confusione Sì sicuramente No oggi è stato ben eliminato dal Se non ricordo mai Eh vabbè ma questo lo dovranno nominare Poi devono fare elezioni Cosa no? O temporaneamente così No 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.